Per gli dèi, il martello è impressionante. Gli dèi ti hanno dato due mani e tu le usi entrambe per impugnare quell'arma. Hai il mio rispetto. Vedi quei guerrieri di Hammerfell? Hanno delle spade curve. Come fanno a battere? Quello frantumano sui cudi. Mi sono scoparato a mio cugino e mio fratello. Puoi trompare? Prendo con la mano e blotto nel Africa.